amici lazione non benvenuti fra i dati l'olimpico oggi siamo qui nella prima partita di juventus lazio mi vedo subito a lasciare un like a iscrivervi al canale commentare qua sotto quello che vi pare insomma allora oggi partita brutta come al solito brutta partita perché appunto contriamo la juve abbiamo una rosa molto molto corta molto corta perché anche con l'ultima partita con l'udinese ci sono infortunati anche radu si è infortunato acerbi però forse stringe denti e riesce a stare in campo si è infortunato johnny e quindi perdiamo sempre più pezzi oggi partita brutta soprattutto anche per il morale della lazio che viene da tre sconfitte consecutive e un pareggio dopo la stupenda stagione che ha fatto prima del del blocco del corona per il caso del coronavirus incontriamo una juve determinata che ha fatto solo due punti in tre partite determinata a vincere a tornare a macinare punti incontra appunto una lazio demonizzata da un punto in sole quattro partite e niente anche le squadre le squadre la nostra fa ridere come al solito perché non c'è rotazione ci abbiamo riserve che fanno pena mentre la juve ha quattro squadre quindi con la che mette e mette insomma la juve è sempre la juve parto subito con le probabili fornazioni abbiamo la juve che schiera vabbè scesni, vabbè schiera un modulo 4-3-3 con scesni in porta, Danilo, De Ligt, Bonucci e Alexandro per difesa Bentancurra e Bioppianici a centrocampo in attacco il tridente è composto da Douglas Costa, Tivale e Cronardo allora rieccoci, scusate per il cambio di location ma ho avuto dei problemi nell'altra stanza e però ci teno a far riuscire il video quindi mi sono trasferito di qua e stavo dicendo le informazioni la Lazio risponde con il solito 3-5-2 o 3-5-1-1 come volete insomma interpretarlo risponde con Stragoscia in porta, Bastos, Acerbi e Luis Felipe in difesa abbiamo Acerbi che nell'ultima gara ha preso un colpo alla caviglia Luis Felipe pure ritorna dall'infortunio e come lo stesso Bastos quindi in difesa stiamo proprio con le toppe e anche in panchina non è che siamo messi bene perché come sostituto abbiamo Armini e basta mi sa in difesa lì perché Radu pure è rotto probabilmente non finirà il campionato ha preso una botta al polpaccio una botta insomma si è infortunato al polpaccio quindi non ci sarà quindi in difesa siamo messi male male e diciamo che questo tridente difensivo a parte Acerbi anche se lo stesso Acerbi è abbastanza rotto contro quello contro il tridente offensivo della Juve diciamo che non dà troppe sicurezze però insomma poi niente detto poi al centrocampo la Lazio di schiena con Lazzari sulla fascia destra cioè allora abbiamo sulle fasce su quella di destra Lazzari su quella di sinistra probabilmente o Diawan Anderson o Romelu Lukaku probabilmente giocherà Anderson perché Lukaku mi pare pure lui abbia preso un colpo non è alla meglio Johnny e proprio proprio non starà nemmeno in panchina come mezzale dovrebbero esserci Parolo a sinistra come sostituto di Rosalberto il quale anche anche lui sarà a casa nemmeno in tribuna l'altra mezzala di sinistra sarà Milinkovic anche Milinkovic con dei problemi fisici mentre il registra il regista in mediana sarà Cataldi pure lui mezzo rotto poi abbiamo la coppa d'attacco classica con Caseto Immobile e come sostituto abbiamo De Canier e basta quindi se si dovesse rompere sia Caseto che Immobile siamo proprio finiti partita brutta perché non siamo fisicamente all'altezza di affrontare questa partita in questa partita l'unica cosa che conterà sarà tanto di questo e soprattutto tanta di questa perché perché se ci metti la testa se ci metti il cuore la voglia se arrivi a fine partita con la maglia zuppa di sangue sudore quello che vi pare allora puoi provare provare a vincerla se però giochi come è giocato con Lecce giochi come è giocato col sassuolo giochi come è giocato con l'Udinese che sì le prime palle le prime azioni partivano lanci lunghi azioni belle giocate tiki tagga triangoli di qua e là è e poi spenti se giochi come è giocato lì questa Juve anche se sta perdendo colpi non ce la fai quindi conta tanta testa tanto cuore e la dedizione è tutto quello che volete perché ripeto io sono uno di quelli che non molla mai quindi io ancora spero spero di arrivare lassù al primo posto è impossibile perché a meno che non ci sia una ripresa all'improvviso della Lazio che proprio da bianco a nero dal giorno alla notte proprio che cambiamo totalmente come mentalità e abbiamo culo che non si rompe nessun altro potremmo anche provare perché se vinci stasera vai a meno 5 poi la Juve ha delle partite non troppo facili se appunto rimane con questa mentalità perché c'è il Cagliari che potrebbe mettere in difficoltà c'è la Samp che non sta facendo bene però potrebbe mettere in difficoltà poi alla fine c'è la Roma che sta migliorando molto e quindi potrebbe pensare pure di vincere all'ultima quindi io penso che prima di tutto bisogna pensare che mancano uno o due punti per la Champions matematica quindi cercare da qui fino a Lazio Napoli di fare quei santi punti per essere matematicamente l'anno prossimo in Champions League anche se giochiamo così pure l'anno prossimo in Champions manco a Gironi usciamo usciamo ancora prima e poi una volta che pensi a questi punti per qualificarti alla Champions il mio sogno vabbè quello che c'ho in testa io sempre è arrivare lassù perché mi rode proprio perché mi rode proprio aver buttato una stagione fantastica perché abbia fatto una stagione fantastica battendo tutti tutte le migliori squadre abbiamo battuto Napoli Inter Juve Dufort Supercoppa Coppa Italia l'anno scorso all'inizio stagione di tutto mi rode proprio lasciare così lo squietto perché ripeto bastava vincere con l'eccesso solo sei a posto scudetto assicurato perché se avessi vinto con l'eccesso solo vuol dire che la mentalità già l'avrei cambiata e già eri con quell'idea di dai dai andiamo a vincere lo scudetto adesso la mentalità è ben negativa speriamo io ripeto spero sempre nel primo posto perché sognare insomma non costa niente quindi innanzitutto oggi vinciamo per la Champions se per qualsiasi voler di vino riusciamo a vincere stasera anche 1-0 anche così poi appunto saremmo matematicamente in Champions e mancherebbero 5 punti per la vetta sperando sperando veramente e niente ragazzuoli vi vi do lasciare un like condividere iscrivervi noi ci vediamo stasera per il post partita di Juventus Lazio e speriamo che non sia una smadonne ma soltanto gioia bella ragazzuoli sempre a forza Lazio